Mi muovo faticosamente nella foresta, nella foresta equatoriale, è una cosa tremenda camminare qui. Mi faccio con difficoltà, mi faccio con difficoltà a largo tra queste foglie, queste alve, queste liane, con un caldo tremendo spossato. Sono a pezzi, mangio un po' di queste bacche perché poi continuo la marcia, ho una paura degli animali, serpenti, qui in mezzo, è una cosa allucinante, si soffre da cani. E' sempre più impenetrabile, riuscirò a uscire da questa strada o a mortale. Si sta a dire tanto, non so, da poco forse il sentiero uscirà nella savana alla luce del sole. Ce l'ho fatta, credevo di morire in questa foresta equatoriale di Corridonia. Questo è un bell'albero secco, a delizia dell'occhio. Questi rami non devono essere tagliati perché serve per fare ombra sulle bancarelle del mercato. La gente mi dice che ci sono dei rami secchi. Aspettiamo che caschino giù e magari spacchino il crani a qualcuno.